Una tendenza che va avanti ormai da anni, complice l'economia, gli affitti alti, le spese, ma anche una sempre maggiore tendenza dei consumatori ad acquistare su internet. Fatto sta che nella provincia di Follicesena sono di più le aziende al dettaglio che chiudono di quelle che aprono, creando un preoccupante segno negativo nell'economia locale. Solo negli ultimi sei mesi sono state oltre 100 ad abbassare la saracinesca. Questi numeri ci confermano quanto sia assolutamente necessario una serie di politiche incisive sulla piccola e media impresa che non dimentichiamo rappresenta la dinamicità, la socialità e anche tutto ciò che concerne la sicurezza delle nostre città. Per fermare questa moria sono necessarie una serie di provvedimenti per aiutare l'imprenditore ad aprire e soprattutto ad andare avanti. Una seria riduzione della pressione fiscale, un incentivo assolutamente fondamentale sull'affitto per coloro che vogliono entrare in location attualmente non occupate per cominciare a fare impresa, un abbassamento del costo del lavoro e una seria politica che vada ad incidere anche su tutto ciò che è l'e-commerce. Penalizzate i centri storici che con le vetrine vuote danno un senso di abbandono. Ecco, la percezione di sicurezza, il presidio non sono parole campatinarie, sono realtà nei fatti. Il presidio del territorio è dato in primis dai nostri imprenditori, per cui anche in un luogo come il nostro centro storico uno grande sforzo che come associazione vogliamo mettere in campo insieme alla politica della nostra città è quella di riuscire ad incentivare coloro che sono già nel mercato ad esserci, a starci nella maniera migliore possibile. Grazie. Grazie. Grazie.